Un progetto di rigenerazione urbana, un progetto pensato per la città, nasce da un'idea dell'Associazione Sviluppo Area Porto e si allarga al territorio. L'intento è quello di realizzare un murales a Corso Garibaldi, che rappresenti la città di Torre del Greco, esaltando la cultura del mare. Carlo Esposito, Presidente dell'Associazione Sviluppo Area Porto. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a progettare e realizzare questa idea? Siamo partiti già un paio di anni fa con questa idea, un'idea di rigenerazione urbana sostanzialmente, con un intervento di street art, questa è la sostanza. Fra autorizzazioni, permessi e il recupero degli intonici, che chiaramente non erano idonee, adatte a poter ospitare un'opera che si sta pensando di fare, sostanzialmente è per ridare a questa zona il giusto valore storico che ha. E quindi abbiamo pensato di fare questo intervento. E ovviamente, come dicevo, un intervento di rigenerazione urbana, si spera che sia il primo di tanti altri. Chi sarà coinvolto nella realizzazione di questo progetto? Allora, innanzitutto noi non vogliamo mettere nessuna bandierina per essere gli unici ad aver avuto quest'idea e a sviluppare questo progetto. Sicuramente abbiamo coinvolto varie associazioni di artigianato locale, che sono stati entusiasti a partecipare a questa cosa, però noi coinvolgeremo anche l'amministrazione, chiaramente, le grandi imprese che sono sul territorio e anche la banca di credito popolare, perché questo non è un progetto dell'associazione di sviluppo aeroporto, ma è un progetto per la città. Quindi vogliamo dare, come dire, l'input a fare altro. Quindi questa dovrebbe essere la partenza per tante altre cose che si spera si possono fare a Torno del Greco. Quindi la parola chiave è inclusione? Sicuramente sì, perché, ripeto, non abbiamo intenzione né di mettere medaglie né bandierine. Noi vogliamo essere promotori, ma non essere gli unici promotori. Noi siamo i promotori, però coinvolgendo altre associazioni di categoria. Letizia Mandragola, l'artista che realizzerà l'opera, ecco, cosa rappresenterà e quali sono magari le tue ispirazioni? Io, come in tutto il mio iter artistico, rappresenterò una donna, in questo caso una donna del mare. Dunque proverò a rappresentare Torre del Greco, esaltando tutta la cultura, la tradizione che la caratterizza. Partendo dal mare, raccontando tutta la tradizione comunque degli artigiani, quella legata al mondo del mare, dunque dei pescatori, che caratterizza questa città.